Passiamo poi a Dordogne, anch'essa come Allianz e Romance si colloca nella fascia delle medio precoci. Dordogne è una varietà leader, è una varietà storica nel panorama delle nantesi a livello europeo ed è presente nel nostro assortimento da circa due anni più o meno. Le sue caratteristiche uniche sono sicuramente un'altissima uniformità, una forma perfettamente cilindrica ed un'altissima resistenza alla salita a seme che ne fa, come vedremo tra poco, come vi spiegherò tra poco, una delle varietà, se non la varietà leader per quanto concerne le produzioni contro stagione tipiche in Sicilia. Inoltre è una varietà anche molto flessibile, elastica perché Dordogne si coltiva con notevole successo da nord a sud, quindi si adatta un po' a tutti gli areali di produzione e a tutti i principali cicli di produzione in Italia. Sicuramente è utilizzata per il mercato fresco. Ecco, come dicevo poco fa, Dordogne è una varietà davvero universale perché si adatta a tutti i cicli di produzione, a tutti gli areali più importanti presenti in Italia. Non a caso questa varietà è presente in entrambi i disciplinari di produzione IGP presenti in Italia di cui vi parlavo poco fa.